Non migliorano le condizioni della ragazza di 18 anni che ieri pomeriggio è stata investita da uno scooter in via Flavia. La giovane rimane ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cattinara, in coma farmacologico con un grave trauma cranico. Una ferita alla testa a causa della brutta botta subita una volta caduta a terra, come testimoniano le immagini con i segni lasciati sull'asfalto. La diciottenne era stata centrata dallo scooter, condotto da un tristino di 58 anni, dopo che il mezzo a due ruote aveva sorpassato una macchina che si era fermata davanti alle strisce pedonali proprio per consentire alla ragazza di attraversare la strada. Il fatto era avvenuto nel primo pomeriggio alle 14.40 davanti a diversi testimoni all'altezza del civico 22 di via Flavia, una strada molto percorsa a tutte le ore del giorno e infatti si erano registrati disagi al traffico per almeno un'ora con la polizia locale costretta a chiudere il passaggio ai veicoli in entrambe le direzioni con deviazione nelle vie Benussi e Caboto al fine di consentire i rilievi del grave incidente. Sul posto anche i mezzi del 118. I medici avevano subito capito che la situazione era più grave del previsto, dato che la giovane donna non si muoveva e non era cosciente. Era stato necessario immobilizzarla sulla barella e intubarla sul posto prima di caricarla in ambulanza e portarla all'ospedale di cattinare in codice rosso.